non so che vado eh togliti togliti di qua vaffan bagno a te va ma porca loca oh perché volevo filmarti guarda via ciabba ero già arrivato ero già grattaculo questo sei fermato che era già su stupido ma io ho detto tanto si rifalta no no in modo come si stava sedendo è arrivato su bene adesso dove sei fermato là eh bravo perché oh non ce n'è uno che gira bravo bravo sono fatta meglio prima ancora meglio non come me non come me non come me provi a vedere se ci passi non come me ci passi non come me tu hai fatto bene il gioco è farla davvero così più in alta ancora ma come me osti questa era secca bisognava mettere dentro un paio di righe qua no devi farla lunga se ti fermi sei fregato si si ma il gioco è anche a scendere in teoria dovresti arrivare lì e farla così troppo lento troppo piano però non avevi manetta sotto deve essere velocissimo ma si ma chiude è giusto ma se tu chiudi un attimino basta e allora e allora cioè ha fatto anche il tronchetto neanche da su qua l'unica chance è copiare dagli altri se fanno bene perché sennò muori durante ma si va bene va bene a posto bravo l'unico problema sono sempre le piante secche che vi attaccate sempre quelle stavolta hai fatto spaventare spampi no perché l'ho visto che era già di qua di schiena quindi non si faceva un cazzo però dobbiamo mettere un paio di tronchetti qua l'ho appena detto che è andata bene perché l'ho visto che è andato di là sai però cambiali il patello va fammi piacere cambiali il patellino che è meglio no perché viene ma va c'è anche io ce l'ho caro usiamo la mia dai vito va giù a prendere la moto va stai lì vettaci da quella lì piccolina dategli un cogno che è quella che è è due a me senti io che spavento me grazie a tutti